... Senz'altro le parole chiave con le quali avviare questa avventura sono i giovani comunità accademica e territorio, i giovani perché sono il nostro naturale complemento, a loro ci rivolgiamo sia per fornir loro la miglior didattica possibile, l'offerta formativa possibile che per quanto riguarda la miglior finestra sul mondo del lavoro. Il territorio perché l'università soprattutto in territori fragili come la Calabria, il Sud Italia, deve sempre più rappresentare un presidio formativo, scientifico. Comunità accademica perché è importante che la stessa si muova sempre più in sinergia, sempre più in condivisione. L'università arriva da un periodo difficile con un'inchiesta che ha coinvolto anche l'ex rettore Zimbone. Come avete vissuto questa fase e come si fa a non far perdere credibilità a quest'Ateneo? È stato un periodo, come dice lei, molto delicato, molto impegnativo, però c'è la volontà e la voglia di rilanciarsi per riprendere il cammino. E comunque bisogna trarre degli insegnamenti da questa vicenda affinché l'università ne esca in maniera più solida e più matura. Com'è cambiata l'università con l'avvento della pandemia? La pandemia ha messo a dura prova un po' tutto il sistema formativo nazionale. La scuola, l'università ovviamente non è stata esente, però il mondo universitario italiano ed anche la nostra università hanno reagito molto bene. ci spinge ad individuare delle forme di didattica innovative che non sono più quelle tradizionali. Quanto sarà importante utilizzare correttamente i fondi del PNRR? Il PNRR è una grande opportunità, lo è per tutti e lo è anche per l'università. Numerosi sono stati progetti approvati che consentiranno di avere una traiettoria molto più ampia e delle sinergie importanti a livello di ricerca e a livello di territorio. Numerosi sono stati progetti approvati che consentiranno di ricerca e a livello 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 di ricerca. Grazie. Grazie.